Care, care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro San Ten Chan. Mi spiace di stare trascurando così tanto questa mia stazione radio e parafrasando il grande Petrolini, comico romano, quindi concittadino mio, faccio questa trasmissione un po' per Ceglia e un po' per non morire di noia. Non so che cosa sia la Ceglia. Saluto la mia grande amica Amletha Bloom, che ho risentito in questi giorni, e saluto Claudio Wolf, che anche qua appare, se continuo a trasmettere, come Claudio Show. Poi voglio raccontarvi del perché e del per come io sono stato assente da Sprecher, per quanti di coloro siano realmente interessati a saperlo, perché io in un determinato momento ho avuto molti ascolti nei miei talk show, che non è una cosa molto frequente, e più di mille iscritti. E adesso me ne sono rimasti la metà perché giustamente passano i mesi, passano gli anni, e io trascuro, purtroppo, non ho perdono, trascuro Sprecher, soprattutto di fare i live. Ma quello che succede è che, invece, faccio molti video nel mio canale di YouTube, Sant'en Chan. Allora, lì mi seguono in molti. Ma ultimamente è passato più di un mese e sono stato assente in Facebook, perché in Facebook già c'avevo un altro account che è durato fino al, non so, 2016. In Facebook non ti segue nessuno, ti danno pochi like e soprattutto leggono poco il post. Lì in Facebook, come Sant'en Chan, c'ho 4-5 pagine e un gruppo. Anzi, mi sembra forse due gruppi, non lo so. Uno dedicato agli animali e un altro alla gastronomia a Cassareccia, o una cosa del genere. Però, non si sa come, perché mi girava, ho riscoperto il blog. E ho fatto dei video in YouTube parlandone, perché io dal 2013 ho Blogger. Naturalmente è inutile che vi dica che il nome del mio blog è originalmente quello di Sant'en Chan, lo youtuber italiano. ed io avevo postato dei post, circa due o tre, in quel blog di Blogger, di Google, poi sono riandato a vedere e dopo circa cinque anni, quei due o tre post avevano fatto più di 600 visuals, visioni del blog. E allora ho iniziato a pubblicare altri post. Sapete che in meno di due settimane, una settimana, fra tutti i post, quelli nuovi, quelli vecchi, poi ne ho tolto qualcuno perché non aveva più ragione d'essere, hanno fatto quasi duemila views o visite del blog. Incredibile! I risultati che non ho mai ottenuto con nessun account di Facebook. Infatti decisi di farci un video in YouTube e di divulgarlo, di dire, guardate, che se siete degli YouTubers farete meglio a divulgare le vostre idee in Blogger, che addirittura è più visto, contrariamente a quanto si direbbe, di Google Plus. Perché Google Plus, io lo utilizzo, l'ho utilizzato molto, fino a un certo punto, fino a qualche mese fa, per diffondere i miei video. Ma più di 4 o 5 like non ricevevo. Invece, da quando una settimana, una settimana e mezzo, che sto ripostando i miei video in Blogger di YouTube, e, voglio dire, cavolo, dalle 600 visuals che in 5 anni aveva raccolto, adesso quasi duemila ce ne ha. Quindi, Blogger è molto letto, perché il target di chi va a leggere i post in Blogger è molto specifico. Poi mi sono ricordato di avere anche un account in Wordpress, che io all'inizio non capivo come si facevano amministrare i blog, perché mi appariva sempre la pagina dell'edizione, ma poi ho scoperto che c'è un link per andare a vedere come il pubblico vede il blog. Allora, sono ritornato a Wordpress e ho fatto un po' di pulizia, anche lì avevo due o tre post che ho tolto, ma soprattutto ho postato molti articoli, prevalentemente articoli che hanno a che vedere con i miei video, ma ho anche postato una poesia e poi all'inizio era un blog che aveva a che fare con la religione, poi siccome che io ho fatto diversi video sulla religione, ho messo dei link dei video, quindi si è trasformato in un post sui miei video di YouTube, ma ho scritto un post in piena regola. Ebbene, incredibilmente, visto che io avevo già due profili blog, poi mi è apparsa una petizione dato il successo dello stesso Wordpress di fondare una web pagina Wordpress o un sito web e io ho aperto anche un sito web destinato alla discussione su tutte le mie playlist e miei video di YouTube. Ebbene, anche lì, in circa una settimana e mezzo, ho avuto, non tutti i giorni, si capisce, non so secondo quali logiche, ma ho avuto dei picchi di visualizzazione dei profili di Wordpress, dei profili di blog e dei profili del sito web che ho aperto in Wordpress, centinaia e centinaia di visualizzazioni, addirittura un giorno da più di 40 paesi nel mondo. Incredibile! e decine di like, cosa che non mi è successo neanche con Blogger e cosa che non mi è successo mai in due settimane o in una settimana e mezzo, men che meno con le pagine, i gruppi e lo stesso muro di Facebook. Ma è incredibile, veramente allucinante come funzionino bene Blogger e come funzioni bene Wordpress. È incredibile il grado di popolarità che puoi raggiungere. Quindi io questo live lo avrei dovuto titolare come usare al meglio le reti sociali per la diffusione del proprio contenuto in YouTube o come utilizzare al meglio Wordpress e Bloggest. però non mi va di cambiare il titolo ormai lo lascio così. Adesso vorrei fare uno sperimento perché dicono che ormai funzioni solo dal cellulare. Quanti hanno avuto all'inizio prima che funzionasse Instagram prima che esistesse addirittura Facebook prima che esistesse Wordpress o Bloggest mi sembra? Quanti di voi hanno avuto e utilizzato per anni addirittura prima di Twitter Fotolog? Ebbene sì io l'ho detto nel mio ultimo video che ho fatto ieri in live streaming perché ormai per non editarli nel computer i video li faccio live streaming dal cellulare io ieri l'ho detto che mi manca da sperimentare Fotolog molti di voi mi diranno eh no perché io ho trovato molte notizie in internet ma Fotolog è morto lo hanno annunciato nel 2016 bravi ci avete ragione ma Fotolog è risorto e non si sa fino a che punto avrà successo visto comunque che ha avuto popolarità un'estrema popolarità forse qualche miliardo di persone l'ho usato forse no non so ma lo slogan di Fotolog era se non ve lo siete scordati una foto al giorno descrivi la tua vita era un po' come l'Instagram che è durato fino al 2016 e adesso dicono che funzioni attraverso una app dal cellulare io vorrei provare a crearmi un account per poi vedere se funziona anche dal computer perché per quanto riguarda Instagram tu puoi rimuovere mi sembra materiale tuo logicamente denunciare materiale di altri cosa che si deve fare solo se il materiale è di una gravità estrema ma mi sembra che non ti puoi iscrivere puoi solo commentare i tuoi stessi post e i post di altri non puoi mettere i tuoi post e i post di altri nelle stories e non puoi rispondere messaggi privati e non puoi caricare foto o video quindi probabilmente Fotologo funzionerà in questo nuovo modo cioè non potrai creare nulla attraverso il computer o attraverso il web attraverso il tablet e il computer portatile ma potrai seguirlo dal web attraverso il tablet o il computer o la notebook ma dovrai creare nuovo contenuto attraverso il cellulare tanto è così che molte persone si lamentano non solo dall'Italia che con Fotologo hanno perso l'accesso al loro vecchio account perché siccome è creato un Fotologo parallelo in un altro universo cioè ci sono delle persone che hanno anche caricato delle foto intime o compromettenti prima del 2016 quando Fotologo ha cessato di funzionare e magari si sono pentite di averlo fatto pensiamo a chi si è caricato assieme alla sua ex moglie delle foto dei video ogni giorno oppure aveva l'amante o una fidanzata che adesso vuole rinnegare la relazione perché si è sposato eccetera o magari ha cambiato orientamento ecco e adesso molta gente si lamenta perché dice come Fotologo è ritornato abbiamo l'opportunità di cancellare i vecchi post messi in Fotologo eppure accedendo dall'account ricreando l'account non possiamo farlo perché Fotologo ci impedisce di ritornare nel nostro vecchio account anche se mettiamo le mail o il nome del vecchio profilo con la vecchia chiave non possiamo riaccedere al nostro vecchio profilo e cancellare il materiale che abbiamo postato ma dobbiamo cioè è come se si crea un nuovo profilo e qui va il mio consiglio state attenti a ciò che caricate in internet perché può succedere per esempio che Instagram come successo convine cessi di funzionare ma il vostro materiale rimanga per sempre caricato perché ciò che va perduto è il vostro account ma il materiale rimane caricato da qualche parte in qualche server e ciò che è accaduto ai vecchi usuari di photolog che hanno perduto l'accesso al loro materiale che è rimasto caricato e con questo vi saluto buon sabato a tutti e buon fine settimana grazie di grazie